Coincidenza o conseguenza? Il ritrovato stato di salute del mare d'Abruzzo è frutto del caso o del lavoro svolto? In altre parole, le 13 bandiere blu ce le siamo davvero meritate? Non ha dubbi il direttore dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale, Maurizio Dionisio, che individua nella cresciuta sensibilità e negli interventi effettivamente eseguiti la ragione del successo. Ma guai a sedersi sugli allori, se il mare è più pulito bisogna darsi da fare per mantenerlo tale e tutti, dal singolo all'industria, possono e devono dare una mano. 113 punti di monitoraggio per sei mesi. In sinergia con la regione Abruzzo decidiamo i punti di monitoraggio ed è qui che parte la grande macchina operativa attraverso uomini e donne, chimici, biologi, fisici che interagiscono con questo territorio. Le bandiere blu sono anche la conseguenza di questo grande sforzo organizzativo. 32 uomini, questo è l'organico che viene destinato soltanto a questa incombenza. Stiamo attenti alle foci, siamo attenti ai punti dove sappiamo che l'acqua proveniente dalle zone interne e quindi l'acqua dei fiumi, degli affluenti potrebbero portare sostanze che dovremo immediatamente individuare. Cosa è stato fatto per migliorare le cose, non solo la sensibilità di ciascuno, privato o azienda, ma anche degli interventi concreti? Ci sono interventi concreti da parte delle amministrazioni che attraverso i loro uffici tecnici evidentemente hanno migliorato le capacità depurative. Il miglioramento delle capacità depurative attraverso la messa a punto dei vari sistemi, quindi parliamo di complesse opere di depurazione, evidentemente permettono poi all'ente deputato, quindi all'Arta Abruzzo, termometro della qualità ambientale di questa regione, permettono di non rilevare agenti inquinanti nelle acque. Siamo attenti sempre a verificare la esatta rispondenza ai parametri di legge. Fra le bandiere blu ci sono anche due laghi? Anche i laghi di fatti sono oggetto della nostra attenzione, spesso ci danno una mano i vigili del fuoco con le loro imbarcazioni per permetterci di effettuare i prelievi delle acque lacustri per l'appunto. Devo dire che i nostri laghi però hanno sempre goduto di una ottima salute e non esistono neanche fenomeni contingenti. E' anche questo un aspetto della nostra regione, un aspetto da valorizzare, un aspetto che potrà portare ulteriormente turismo. Grazie a tutti.